Conturbante Viaggi e Turismo è nata per farti sognare in giro per il mondo e darti la possibilità di soddisfare ogni tua esigenza. 35 opere per un importo complessivo che supera i 48 milioni e mezzo di euro. Sono questi i numeri del piano annuale delle opere pubbliche, barato nei giorni scorsi dall'aggiunta retta dal sindaco di Cava dei Tirreni, Vincenzo Servalli. Le progettualità più importanti riguardano il contratto di quartiere di pregiato e il programma integrato città sostenibili, i cosiddetti fondi PIX. Nello specifico, gli interventi previsti dal contratto di quartiere riguardano le opere di urbanizzazione dell'asse medio collinare, area di parcheggio in prossimità di Piazza Galli, edilizia residenziale sperimentale pubblica con la realizzazione di 66 alloggi e del centro polifunzionale. Gli altri interventi riguardano il completamento del Palaeventi e dell'area esterna, la messa in sicurezza delle scuole, la sistemazione del cimitero con il nuovo impianto di illuminazione evotiva, Villa Rende, sistemazione dell'ex area dei prefabbricati di Via Longo e manutenzione straordinaria degli immobili comunali. Al via inoltre tutta l'importante progettualità dei PIX, con il recupero e rifunzionalizzazione del castello di Sant'Adiutore, dell'Oasi di Dieci Mare, dell'Eremo di San Martino, delle aree ex prefabbricati di Santa Lucia e San Pietro con la realizzazione di parchi urbani. Il completamento del recupero del complesso edilizio di San Lorenzo e la realizzazione di un sistema culturale integrato. Prevista anche l'estensione della rete gas metano alla località Casa David, via 25 Luglio e via Zarrella. Spazio inoltre anche alla messa in sicurezza dell'antico asilo pastore di Pregiato, del Vallone Magnara e il completamento della rete fognaria nella zona sud della città. Nel piano delle opere pubbliche vanno inserite, possono essere inserite soltanto le opere per le quali è definita già la fonte di finanziamento. Un progetto è veramente tale, quindi potenzialmente concreto di un intervento sul territorio, soltanto quando c'è anche la fonte di finanziamento. Quando non c'è il modo con il quale pagare quell'intervento, non parliamo più di progetti, ma parliamo di idee, diciamo, e qui tutti quanti si possono sbizzarrire. E quindi sono degli interventi importanti, molti dei quali vengono da programmazioni anche precedenti, di lungo periodo che non siamo riusciti a concretizzare ancora, come il contratto di quartiere, altre sono più recenti e altre stanno per iniziare, come tutto il programma, dei piani integrati delle città sostenibili, i cosiddetti VIX. Stiamo correndo molto, proprio perché vorremmo, fatta tutta la fase preliminare, che ha comportato anche una intensa relazione con la Regione Campania, per la condivisione degli interventi e delle risorse da appostare per ciascuno degli interventi, per le progettazioni esecutive e per poi cominciare concretamente i lavori. Perché poi, fino a quando, diciamo, non si comincia concretamente, non si riesce a percepire la importanza di questi interventi sul nostro territorio.